Gli adulti per amare i bambini devono occuparsi della condizione delle città, degli spazi per giocare, della condizione delle scuole, delle forme dell'apprendimento e gli adulti devono anche dedicare l'attenzione, il tempo necessario affinché i bambini possano esprimere i propri sentimenti e la propria umanità. I bambini parcheggiati davanti a una tv o davanti a un computer, i bambini che soffrono sia pure in condizione di benessere la solitudine, mandano un messaggio agli adulti. Credo che dobbiamo imparare ad ascoltare i bambini, sapendo che i bambini sono straordinari educatori degli adulti.